Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo qui con la serie 1 di Watchmen della DC Direct, la serie 1 completa e anche un'esclusiva variante, una variante esclusiva. Eccola qua la prima serie, abbiamo Rorschach, Ozymandias, Silk Spectre, poi abbiamo Night Owl, entrambi sia Silk Spectre che Night Owl in versione moderna e qui abbiamo una variante esclusiva del personaggio Rorschach, eccolo qui. Allora, che cos'è Watchmen? Beh, per chi non lo sapesse, vi racconto brevemente la storia di Watchmen, un capolavoro. Watchmen è una serie a fumetti scritta dall'autore britannico Alan Moore e pubblicata dalla casa editrice statunitense DC Comics tra il 1986 e il 1987. Watchmen è ambientato in una realtà alternativa, ma molto simile a quella del mondo reale, anche se cambiano alcune cose, per esempio gli Stati Uniti hanno vinto la guerra in Vietnam. Si svolge intorno al 1985, Stati Uniti e Unione Sovietica sono in piena guerra fredda e sull'orlo di una guerra nucleare. In questa realtà alternativa, i supereroi sono parte integrante della società, anche se al dir la verità, l'unico vero supereroe, poiché l'unico personaggio che possiede effettivi poteri soprannaturali, è il Dottor Manhattan. Tutti gli altri sono degli avventurieri barra combattenti mascherati. Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo cambiato inquadratura. Siamo qui con Night Owl perché volevo mostrarvi com'è fatta la scatola delle action figure di Watchmen. Allora, qui sopra abbiamo i personaggi principali, vedete qui, riportati in questo disegno chiaro-oscuro, la scritta Watchmen con il fonte inconfondibile tipico di Watchmen e il colore giallo sempre tipico di Watchmen. Qui c'è la scritta Series 1, o per meglio dire Series 1, One, anzi, che appunto si riferisce al fatto che questa è la serie numero 1, la prima serie. Poi ovviamente qui c'è il personaggio. Sotto vediamo il nome del personaggio, con la dicitura in questo caso moderno, perché Night Owl c'è sia versione classica che versione moderna, cambiano i costumi. Quindi c'è il costume classico e il costume moderno. Collector action figure, che quindi appunto è la classica dicitura che viene messa per indicare che questa action figure, che questa linea di action figure è stata prodotta per collezionisti e non per bambini. Quindi non sono giocattoli, ma oggetti della collezione. Poi è chiaro, uno può comprarli anche per darli al proprio figlio, al proprio niveau, per farli giocare. Però l'obiettivo dei produttori era quello di mirare ad un pubblico di collezionisti. Poi qui abbiamo appunto una dicitura di pericolo, warning, che appunto ci sono delle piccole parti, quindi non adatto ai bambini sotto i tre anni per età dai 17 anni in su. Quindi dai 17 anni in su appunto per un pubblico adulto. Poi qui sul lato abbiamo il logo, diciamo di nuovo la scritta Watchmen, uno dei due loghi. C'è lo smile, in questo caso c'è l'orologio. Una foto del personaggio. Qui dietro abbiamo sotto la checklist della serie 2, sopra la checklist della serie 1. Qui abbiamo una descrizione di Watchmen, dell'universo di Watchmen, dell'opera. Qui altre scritte, qui il logo della DC Direct, qui sempre altre scritte, diciamo, del produttore, quindi informative. E poi vedete che dietro c'è una sorta di murales, un muro con un murales con una scritta. E vale così, questo vale per tutti i personaggi di Watchmen, anche quelli che vi ho fatto vedere prima. Allora ragazzi, si conclude qui questo video. Io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti altri contenuti. In descrizione vi lascio anche i link alle pagine Facebook, Instagram e TikTok del canale, se volete seguitemi anche lì. Lasciate un bel mi piace a questo video per supportare il canale. Sempre in descrizione trovate il link del blog, se volete fateci un salto e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!